Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Dolore oculare, cause e sintomi. Il dolore oculare è un sintomo comune a svariate patologie che può provocare molto disagio. Può trattarsi di un disturbo temporaneo a specifico che si risolve spontaneamente o può rappresentare un segno di una condizione più grave, soprattutto se associato ad un'alterazione della funzione visiva. Il dolore oculare può essere descritto come acuto, trafittivo o lancinante quando deriva da un disturbo che condiziona le strutture oculari più esterne. Se invece insorge dietro o all'interno dell'occhio, il dolore può essere sordo, lancinante, opprimente o pulsante. Le cause di dolore oculare possono essere suddivise in malattie che colpiscono principalmente la cornea, ricca mente innervata e molto sensibile il dolore, patologie limitate all'occhio e affezioni che causano dolore riferito. Innanzitutto, il dolore oculare deve essere distinto da un'irritazione superficiale o da una sensazione di graffio o sabbia nell'occhio. Congiuntivite, allergie, glaucoma, neurite ottica o trauma oculare sono tra le cause più frequenti di dolore oculare. Per quanto riguarda i disturbi che colpiscono la cornea, causano tale sintomo. Presenza di corpi estranei, ustioni chimiche, abrasione e ulcera corneale, herpes zostero oftalmico, cheratite da herpes simplex o da lenti a contatto. Esistono, poi, patologie che causano un dolore riferito all'occhio. Significa che tali malattie e il dolore originano in altri apparati. In questo caso si può trattare di un dolore riflesso, nella maggior parte dei casi provocato da cefalea, grappolo, emicrania, infiammazione del nervo trigemino o sinusite. Molte di queste cause di dolore oculare devono essere trattate adeguatamente con il supporto di un oculista. Possibili cause di dolore oculare. Dolore oculare è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Allergia da contatto, blefarite, cheratite da herpes simplex, congiuntivite, da criocistite, dengue, episclerite, glaucoma, herpes simplex, herpes zostero oftalmico, infezione da virus su estnile, infiammazione del nervo trigemino, iridociclite, leptospirosi, neurite ottica, orzaiolo, retinoblastoma, sclerite, sindrome dell'occhio secco, sinusite, tracoma, trichinosi, ulcera corneale, ustioni, uveite, cause rare. Arterite a cellule giganti, artrite idiopatica giovanile, astigmatismo, calazio, cefalea, cheratocono, emicrania, infezione da citomegalovirus, CMV, malattia da graffio di gatto, pinguecola, toxoplasmosi. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte. mypersonaltrainer.it